La consulta femminile presieduta da Maria Agnese Vercellotti Moffa ha presentato le prossime iniziative l'esposizione nei locali delle ex carceri nuove di Torino, di una mostra fotografica sulla storia dei movimenti femminili del Novecento una rassegna cinematografica su donne lavoro in collaborazione con la IACE Torino la presentazione del progetto del CNEL sul benessere e la presentazione di alcune biografie di grandi donne del passato torinese